Ciao a tutti ragazzi, qui è The Monster Oggi iniziamo con un nuovo let's play di un famoso gioco Che si chiama Slender Che fino adesso ne conosco 4 di matte Cioè, vabbè, questa che è Hospice, infatti le vede Poi ci sta Slender, quella del bosco, il primo insomma E Sanatorium e Mesion, una cosa del genere Vabbè, comunque, adesso Mr. Black inizierà una nuova serie di Borderlands Un gioco che piace a lui Il gioco che piace a lui piace anche a voi Dai sto scherzando, comunque, iniziamo Io questo gioco lo odio, cioè perché è comunque un gioco odioso Forse una volta che ho vinto Che cazzo... No, che cos'è? Che cos'è? Guardate Che... Ok, non rido più Bambino di merda Ho messo il freno Porca mia troia, porca Troia Ok Ragazzi, questo è il gioco più horror che io abbia mai fatto per ora No, 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 no Poi via, coglione No, ci sono già stato qui Palazzo di merda Perchè so che qui comparirà? Oh, cazzo Vaffanculo, dove stanno? No 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 Vaffanculo Vabbè rag, come primo video finisco qui Cazzo Vaffanculo, cazzo Dio, merda Vabbè, bella raga Scusate, ma... No No, 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 no Vabbè Il video è durato, cosa si può dire, 5 minuti Proprio 5 minuti, uno, scarzi Vabbè Ciao a tutti Presto la nuova serie di Di Mr. Black Di Borderlands Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti